ciao a tutti benvenuti su feri asmr io sono federica e quello che state per vedere è un nuovo video asmr rilassante il consiglio come al solito di indossare le cuffie oppure gli auricolari per ascoltarlo perché durante i prossimi minuti mi sentirete parlare con un tono di voce sussurato proprio per favorire il rilassamento oggi voglio provare a farvi addormentare mostrandovi alcuni acquisti armo cromatici e raccontandovi un po' delle ultime novità se l'idea di questo video vi piace mi raccomando fatemelo sapere lasciando un mi piace iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti e attivate la campanella per ricevere tutte le notifiche dei prossimi caricamenti e noi adesso iniziamo eccoci allora nello sfondo che tanto amate della mia camera da letto e con purtroppo forse in sottofondo le voci dei vicini di casa che spero non vi vieno troppo fastidio cercate di isolare comunque i rumori esterni e di concentrarvi solo sulla mia voce che sarà la protagonista del video e sui suoni che produrrò allora parliamo di armocromia se ve lo state chiedendo la maglietta che sta indossando con questo riccio ananas è di pampling e trovate giù in descrizione come al solito il codice affiliato il fetti e il link per acquistarne uno uguale con il 15% di sconto oppure un'altra ce ne sono moltissime sul sito ma dicevamo allora come molti di voi che mi seguono su instagram già sanno da un po' di tempo mi sto interessando all'argomento dell'armocromia vi lascio qui nelle schede un video che ho realizzato proprio sull'argomento questo è un roleplay secondo me interessante e diverso dal solito che cos'è l'armocromia? l'armocromia è una disciplina che si basa sulla teoria dei colori e che classifica le persone come appartenenti a una delle stagioni dell'anno quindi primavera, estate, autunno e inverno nella maggior parte delle classificazioni queste categorie hanno dei sottogruppi come si fa a determinare a quale stagione un individuo appartenga? ebbene, si valutano innanzitutto le sue caratteristiche naturali quindi il colore degli occhi, dei capelli e della pelle logicamente a proposito, se vedete qualcosa di strano sui miei capelli ascoltate il video fino alla fine perché vi racconterò che cosa è successo e poi si valuta la reazione della pelle ai vari colori ma appunto per una panoramica un po' più approfondita vi rimando al video che vi ho linkato vorrei invece in questo video mostrarvi tre acquisti armocromatici che ho fatto grazie ai consigli di Elenia e Valeria di papere in armocromia vi lascio anche qui in questo canale il link al canale di Elenia loro sono delle consulenti specializzate in armocromia quindi possono effettuare su di voi l'analisi armocromatica qualora glielo richiediate fare acquisti make up posi armocromatici è un'impresa ho fatto il giro delle profumerie per trovare i cosmetici suggeriti per la mia stagione che sono tantissimi e valutare anche con i miei occhi la resa dei colori di questi cosmetici forse è ancora più divertente fare lo stesso giro per gli abiti e sì perché l'armocromia influirà anche il vostro modo di vestire allora per i curiosi che sempre non mi seguono ancora su instagram dove ho già rivelato tutto io sono risultata appartenere secondo l'analisi di Elenia e Valeria alla stagione inverno profondo soft sono andata a fare acquisti in particolare in due negozi cioè NYX o come si diceva un tempo NYX e MAC il rossetto che sto indossando adesso è questo qui di NYX provo ad avvicinarlo alla videocamera in modo che possiate vedere il packaging poi farò anche qualche suono è un rossetto liquido è un rossetto liquido e il colore è Madrid e la linea è Soft Matte Lip Cream in realtà questo non era tra i rossetti consigliati ma l'altro che appunto era sulla lista era terminato forse è andato proprio fuori produzione e la commessa del negozio mi ha consigliato questo che pare essere molto simile in effetti sembra che mi stia abbastanza bene che ne pensate? certo con questi capelli sarebbe tutto un po' da rivalutare ma come dicevo all'inizio ve lo spiegherò alla fine ancora non ho tanto la pastica ancora non ho tanto la pastica ecco qui faccio uno swatch sulla mia mano ma comunque potrete averlo ancora meglio abbassato sulle labbra ecco qua è un bel rosso particolarmente freddo il fatto è che però la tenuta di questo rossetto non mi ha soddisfatta più di tanto pensavo che in quanto rossetto liquido fosse simile a una tinta per labbra comunque molto persistente e in realtà un pochino tende a seccare le labbra e comunque come vedete il finish è matt almeno una volta asciutto però nonostante questo tende ad andare via soprattutto se si beve e si mangia l'altro di NYX è molto molto carino nel packaging che è questo qui guardate il cuoricino mostro a proposito qualcuno di voi scrive nei commenti molto spesso che parlo troppo e che dovrei fare più suoni allora i video di soli suoni ci sono anche sul mio canale personalmente però preferisco il whispering e in generale le voci e i video in cui le persone hanno qualcosa da dire mi annoio ad ascoltare i canali incentrati prevalentemente sui suoni ed è unicamente per questo mio gusto personale che voglio condurre anche il mio canale nello stesso modo cioè incentrandolo in particolar modo sulla mia voce che poi è la mia cifra distintiva dunque questo rossetto si chiama Cherry Skies anche questo non sono colpita che fosse nella lista però è un colore che mi ha colpita questo suono questo suono adoro guardate un altro rosso freddissimo tipo ciliegia tipo ciliegia molto simile al primo leggermente più cubo meno brillante e anche questo mi è piaciuto da morire però in realtà ha una tenuta poco soddisfacente quindi in quanto a performance questi due purtroppo non posso promuoverli appieno anche perché i rossi sono abbastanza difficili da portare c'è bisogno che rimangano su in maniera impeccabile quindi mi sono rifatta con MAC che solitamente è una garanzia almeno per quanto riguarda i rossetti e ho preso Deep for Danger questo si ero nelle liste dei prodotti aromocromatici per la mia stagione adesso ve lo mostro come potrete notare ho preso una mini size perché ho notato che non riesco mai a terminare un rossetto e da quando ho fatto il decluttering dei miei trucchi sono diciamo intenzionata a ridurre un pochino gli sprechi voi direte allora perché hai acquistato tre rossetti molto simili per loro e beh perché ogni tanto bisogna anche farsi degli autoregali Deep for Danger di MAC è sicuramente il più bello fra i tre rossetti che ho acquistato guardate senza volerlo l'ho swatchato su un dito quindi riuscite a notare il colore riuscite a notare il colore adesso ve lo mostro swatchato allora fra i tre questo è quello che contiene la percentuale maggiore di blu è questo qui bellissimo super confortevole resistente e ha un profumo di caramello certo non è proprio il caso applicarlo sopra l'altro rossetto è resistibile però la cosa che mi piace di più è che è talmente confortevole da non seccare assolutamente le labbra eppure ha un ottimo ottimo tenuto superiore a quello di NYX per esempio prossimamente voglio mostrarvi anche alcuni acquisti bio che ho fatto e parlarvi dell'esperienza del sana so che sarete molto curiosi in merito perché alcuni di voi già mi hanno scritto su Instagram per chiedere le informazioni ma prima veniamo all'argomento tanto atteso ovvero i miei capelli allora cosa è cambiato? vi vedete praticamente bionda un biondo grigiastro quasi grigio perla perché cosa è successo? io volevo colorare i capelli di un castano freddo sempre perché sono pizziatissima adesso dall'armocromie quindi vorrei tornare a un colore abbastanza simile al mio naturale che appunto è un cenere castano freddo comunque anzi non castano forse un biondo cenere scuro però il parrucchiare o meglio molti parrucchiari ma quello dove sono andata da ultimo in particolare mi ha detto i tuoi capelli sono pieni di riclassi caldi in questo momento dovuti a varie altre tinture e decolorazioni che hai fatto quindi l'unica soluzione vera per ottenere dei colori freddi è il decappaggio decolora tutto e poi potremmo tonalizzare con il colore che preferisci ho accettato mio malgrado perché sapevo che quando il decappaggio i capelli si sarebbero un po' rovinati però i miei sono a quanto pare parecchio resistenti perché si sono solo un po' seccati ma non particolarmente spezzati o danneggiati insomma e il problema è che dopo la decolorazione anzi le due decolorazioni consecutive che abbiamo fatto per raggiungere un risultato che fosse il più possibile neutro più molto chiaro tutto ciò che è stato fatto è stato passare un tonalizzante anzi due uno un po' più scuro alla base e uno sul grigio qui su tutte le lunghezze e il risultato non è minimamente simile al castano che avrei voluto io se riesco vi lascio giù in descrizione anche anzi lo farò su instagram magari meglio e vi lascerò una foto del risultato che avrei voluto ottenere e che ovviamente mi è stato detto raggiungerai solo la prossima volta tramite un'ulteriore tonalizzazione siamo completamente distanti da questo questo è chiaro quello che chiedevo io era molto più scuro ora so che non è un grande problema scurire i capelli decolorati il problema è semmai la decolorazione in sé quindi immagino che riusciremo a raggiungere il risultato desiderato ma non ne sono sicura perché mentre il parrucchiare mi consiglia di utilizzare da adesso in poi solo dei tonalizzanti e mai più dei colori in quanto ritiene che all'interno dei colori ci siano sempre pigmenti rossi non preti altre persone altri parrucchiari soprattutto tra voi mi hanno scritto su instagram che in realtà l'unico modo per raggiungere il risultato che desidero sarebbe quello di passare un colore se ci sono gli esperti contattatemi su instagram e fatemi sapere la vostra opinione magari eviterò di fare troppi trattamenti con scarso successo bene detto questo io vi saluto sperando che vi siate rilassati lasciatemi un commento per farmi sapere se siete interessati all'armocromia se conoscete la vostra stagione di appartenenza e soprattutto se vi piacciono i miei acquisti armocromatici make-uposi quindi lasciate un segno del vostro passaggio e noi ci vediamo come al solito se vi va al prossimo video bucini gotosi